Questa va presa su serie e va affrontata per quello che è. È un grave pericolo che viene sottovalutato e gli stessi rapporti che oggi l'Europa sta tenendo con un regime come quello di Erdogan ci dicono che siamo molto lontani dalla coscienza che la situazione è ben oltre il commerciabile, cioè non si può pagare un regime come quello di Erdogan per gestire la questione rifugiati o clandestini o profughi come vogliamo chiamarla, sapendo che dietro a Erdogan ci stanno politiche legate ai fratelli musulmani che stanno infiammando tutto lo scenario medio orientale a partire dall'Isis fino ad arrivare poi all'Egitto o fino ad arrivare alla Libia. Su queste cose purtroppo manca ancora una consapevolezza che o l'Isis si combatte e si schiaccia e gli strumenti per farlo sappiamo che ci sono oppure continuare a tenere dei rapporti anche se vogliamo un po' sfumati perché magari con questo riusciamo ad evitare che ci faccia un attentato, attenzione perché quando succede al vicino di casa non dobbiamo sentirci tranquilli solo perché non è avvenuto a casa nostra.